ciao pischelli benvenuti in questo nuovo video di borderlands 3 dove vi mostrerò come recuperare il fuoristrada tagliente come vedete dopo aver ispezionato un po' la zona e non aver trovato nessun punto con cui salire decido che l'unica via buttarsi in corsa dal mezzo prendiamo una bella rincorsa andiamo 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 e oppe con brivido che culo ragazzi comunque questo è il modo per prenderla fate bravi ma non troppo ragazzi se no sai che palle show belli